Abruzzo maglia nera in Italia per acquisti dei farmaci. I dati da gennaio a settembre del 2018 non lasciano spazio a dubbi. Siamo la sesta regione per spesa farmaceutica ospedaliere, addirittura la prima nel paese per spesa farmaceutica territoriale convenzionata. A sostenerlo è il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari che ha aggiunto parliamo di una delle più importanti voci di costo della nostra sanità, cioè il 20 per cento del conto economico del servizio sanitario regionale. Un esborso che andrebbe contenuto con un serio studio e una programmazione che elimini le spese superflue ma che continui a garantire l'accesso ai farmaci per tutti quei cittadini che ne hanno reale bisogno. E invece la regione cosa fa, dice Pettinari, un taglio di 40 milioni di euro senza nessuna programmazione e costringendo le ASL a dare meno farmaci ai cittadini. Abbiamo scoperto che c'è sta una delibera di giunta regionale del 6 maggio 2019 che prevede un tetto di spesa e quindi un taglio lineare di 40 milioni di euro sulla spesa farmaceutica. Inevitabilmente questo provocherà che ci saranno medici prescrittori che potranno prescrivere molto meno e ci saranno meno farmaci all'interno delle strutture. È un problema, è un problema serio perché noi riteniamo che per adeguarsi agli standard delle altre regioni italiane non si deve tagliare in maniera ragioneristica sulla pelle dei cittadini che troveranno meno farmaci e già sappiamo quel problema perché più volte i cittadini hanno denunciato che dovevano portarsi i farmaci da casa nelle strutture ospedaliere e non solo. Noi avremmo programmato in maniera strategica, fatto cosa? Imponendo l'adozione del farmaco monodose a dose unitaria che sta facendo risparmiare alle regioni virtuose d'Italia il 20%, proprio quello che si chiede di tagliare in Abruzzo. Perché non si usa il farmaco monodose? Sono anni che lo stiamo chiedendo e lo chiediamo anche adesso in questo momento la nuova amministrazione regionale, la informatizzazione e digitalizzazione per sapere la vita del paziente perché oggi il medico prescrittore non sa quello che si è fatto in ospedale, in ospedale non sa quello che si è fatto una guardia medica, la guardia medica non sa quello che si è fatto il distretto sanitario e quindi si va così all'arrembaggio, cercare un attimino dall'improvvisazione, non si può improvvisare sulla vita di un paziente e poi la formazione, l'informazione, chiediamo un imponente investimento sociale sull'informazione e sugli stili di vita sani perché sullo stile di vita sano si può far ricorrere molto meno all'uso e all'abuso di farmaci da parte dei cittadini.